Sono la dottoressa Sabatini, psicologa del consultorio familiare di Ro. I consultori della SST Rodense rappresentano la porta di accesso e l'osservatorio privilegiato sul fenomeno della violenza, in collaborazione con i diversi soggetti della rete territoriale interistituzionale. Parlo quindi a nome di tutti i colleghi che sono impegnati a vario titolo nella prevenzione e nel contrasto della violenza. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa descrive la violenza di genere come una violazione dei diritti umani è una forma di discriminazione contro le donne che comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano danni o sono suscettibili di provocare sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese anche le minacce di compiere tali atti. La violenza domestica, invece, comprende tutti gli atti di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica che si verificano proprio all'interno delle relazioni familiari attuali o passate. Gli elementi generali della violenza di genere sono diversi, anche perché la violenza di genere è un fenomeno estremamente complesso. Infatti si tratta di un fenomeno esteso, anche se appare ancora sommerso e per questo è anche sottostimato. È un fenomeno silenzioso e spesso invisibile, da qui il fatto di essere sottostimato, e ciò spesso avviene per ragioni di vergogna, per paura, per stigma culturali, i panni sporchi si lavano in famiglia, ad esempio, oppure anche per un retaggio di una società patriarcale che spesso giustifica la violenza, in un certo qual modo. È un fenomeno trasversale perché può riguardare chiunque, uomini e donne di ogni nazionalità e anche classe sociale e appartenenza religiosa. È un fenomeno continuativo perché si tratta di comportamenti ritirati nel tempo, con un andamento ciclico che quasi sempre porta ad un'escalazione della violenza agita, come poi si vedrà molto bene, specificamente all'interno della violenza domestica. Esistono diversi tipi di violenza che possono manifestarsi isolatamente, così come pure combinarsi insieme, come spesso avviene nella realtà, dando origine a un fenomeno estremamente complesso e a delle situazioni estremamente gravi. C'è la violenza fisica che consiste in agiti aggressivi volti a far male o a spaventare la vittima, sia con lesioni fisiche, distruzioni di oggetti e maltrattamento di animali domestici, anche a volte. La violenza psicologica che invece riguarda qualsiasi comportamento intimidatorio, minaccioso, vessatorio e denigratorio è qualsiasi atteggiamento volto a ledere la dignità della donna, rendendola debole, rendendola impotente, dipendente all'interno di una relazione di potere, anche attraverso una pesante manipolazione affettiva che oggi viene definita gaslighting. Si tratta di una manipolazione molto violenta e subdola all'interno della quale la donna ha una vera e propria minaccia della propria identità perché sente messa pesantemente in dubbio la propria sanità mentale. C'è poi la violenza sessuale che comprende le molestie sessuali, l'aggressione sessuale agita con costrizione e minaccia e anche la costrizione alla prostituzione. All'interno di un rapporto di coppia invece la violenza sessuale può essere anche agita attraverso l'imposizione alla donna di rapporti sessuali indesiderati o attraverso anche la messa a ridicolo dei comportamenti sessuali oppure anche la costrizione a rapporti con terze persone oppure l'utilizzo indesiderato di materiale pornografico. C'è la violenza economica che invece riguarda qualsiasi azione che crei un comportamento di dipendenza economica della donna nei confronti dell'uomo ad esempio il divieto di lavorare o il sabotaggio dell'attività lavorativa della donna il controllo del suo stipendio oppure anche escludere o tenere all'oscuro la donna dalla gestione del patrimonio familiare e obbligarla anche a contrarre dei debiti. Infine c'è lo stalking che consiste in una serie di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e di controllo alla ricerca di un contatto e di una comunicazione nei confronti di una persona che può essere conosciuta o sconosciuta provocando nella stessa un'intensa paura e un'angoscia tali da modificare il normale andamento della vita e della sua libertà quotidiana. Quando queste azioni di persecuzione avvengono anche attraverso minacce o molestie online ad esempio si postano foto e filmati senza il consenso e si creano ad esempio profili falsi sui social si tratta di quello che viene definito cyber stalking o revenge porn. Infine c'è la violenza assistita che è un tipo di violenza estremamente grave per chi la subisce si tratta sempre di minori questa tipologia di violenza è stata riconosciuta anche abbastanza recentemente e consiste nel fatto che i minori siano drammaticamente spettatori di qualsiasi forma di maltrattamento agita da figure di riferimento quindi comprende quegli atti di violenza su figure affettive a lui vicine vicine e care al minore di cui il minore stesso può fare sia un'esperienza diretta quando viene nel suo campo percettivo quando il minore si trova direttamente coinvolto in queste situazioni ma anche indirettamente quando il minore è a conoscenza della violenza sulle sue figure di riferimento o anche soltanto ne percepisce gli effetti vivendo con un genitore che sente una grande sofferenza o che percepisce uno stato di malessere a causa della violenza stessa. Grazie a tutti i nostri spettatori